Ciao, mi chiamo Kleber Sant'Anna, sono brasiliano e cittadino italiano anche. Sto arrivando a Rimini adesso, sono arrivato da qualche mese e sto cercando di fare una vita, da vita un sogno qua a Rimini, un sogno dove posso fare le mie cose, dove posso innovare, trovare le persone che vogliono fare belle cose per la città, soprattutto. Per me l'innovazione digitale è quella che ci trova soluzione per i cittadini, per i cittadini no, per le persone, le persone diciamo i cittadini, i turisti e tutti gli altri che sono intorno qui della città, che ci portano belle esperienze di uno che arriva qua, si arriva per vivere, si arriva per passare delle giornate, che arriva per qualsiasi cosa. Quindi quello per me è l'innovazione, quella che ti offre alle persone un'esperienza bella, quindi per me è questo l'innovazione. Qui nello spazio aperto, un laboratorio aperto, io spero di trovare un spazio di fatto aperto dove si può trovare assieme le persone le soluzioni per le città, un spazio di cocreazione soprattutto, un spazio dove le persone scambiano perché per me l'innovazione parte sempre delle persone, quindi c'è già questo spazio, per me già è una grande cosa. Poi un'altra cosa che si può servire qua è per fare test, prototipi di soluzioni che già sono sviluppati nella città, che si stanno iniziando, quindi un spazio dove, non so come ancora, però le persone possono trovare un modulo di testare, mettere a prova le sue idee, anche le idee che sono già in strada e qui si possono magari ingrandire e fare altri. E poi un spazio dove puoi trovare le persone di diversi tipi, di diversi pensieri, che ci puoi fare rete, che ti puoi fare amicizie, che ti puoi fare squadre di lavoro, che ti puoi offrire opportunità, insomma. Per me è questo, un spazio anche se non è già formatato, che si può anche sviluppare con le persone che cominciano ad arrivare con questo proposito, con questa voglia di fare.